Musica Buongiorno e benvenuti a un giorno un allenamento Oggi siamo con Dina Avremo bisogno per i nostri esercizi di una sedia Dina è seduta sulla sedia Ovviamente il primo esercizio la colonna sarà completamente appoggiata sulla sedia Le cosce completamente insieme al bacino Cercate una sedia che vi possa permettere di sedervi appoggiando le piante dei piedi completamente per terra Il primo esercizio prevederà le braccia Vi ricordo le spalle sono aperte, petto in fuori Le braccia sono lungo il petto Da questa posizione chiederò a Dina di aprire all'esterno le braccia Non superate mai la spalla E ritorno Apro Semplicemente ritorno Apro E ritorno Apro E ritorno Dieci ripetizioni Appoggia le braccia sulle cosce e recupera Farai un'altra serie di dieci ripetizioni Seguite da una pausa E altre dieci ripetizioni per tre serie Ovviamente se non riesci a supportare dieci ripetizioni potrai farne anche otto O addirittura sei Quindi sei, otto oppure dieci Seguite sempre dalla fase di recupero Nel secondo esercizio chiederò a Dina di spostarsi leggermente in avanti Quindi di staccare la parte della colonna dalla sedia Ti ricordo che devi sederti sulla linea del gluteo Quindi questa fascia qui, la coscia è fuori Piedi poggiati Chiederò a Dina di portare le braccia avanti All'altezza delle spalle L'esercizio riguarderà l'allungamento della colonna della parte posteriore Ti faccio vedere il gesto meccanico Poi chiederò a Dina di eseguirlo da sola Ricordati di respirare Da questa posizione sposta Guardami In avanti la colonna E ritorna Sposta in avanti la colonna E ritorna Sposta in avanti Vedete il bacino rimane fermo E ritorni Anche qui 6, 8 oppure 10 ripetizioni In base alle vostre possibilità Seguite sempre da una fase di recupero Ripeterai l'esercizio per 3 serie Come hai fatto prima Grazie e buon allenamento Grazie a tutti Grazie a tutti